Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video Oggi vi andrò a spiegare come scaricare StumbleGuys gratis su computer Vi basterà semplicemente avere un computer, mi raccomando non dovete avere questi computer Se no il vostro computer non regge, poi potete avere qualsiasi computer Tanto vanno bene tutti ragazzi, l'importante è che non avete questi papacchi Vi andrò a spiegare come scaricare StumbleGuys senza neanche uscire un euro Quindi lasciate un bellissimo like, potete lasciare l'iscrizione Se avete alcuni problemini, mi raccomando non esitate a commentare E adesso possiamo andare! Per primissima cosa, vi basterà andare su Google, dovete scrivere Bluestacks, ok? E dovete andare a scaricare dal primo sito, Bluestacks 5 Android Praticamente questo è un emulatore che trasformerà il vostro computer in un semplice Android, raga, come un cellulare Quindi Bluestacks 5, presentazione della performance best, questo qua dovete andare a scaricare Bluestacks 5, scarica Bluestacks, raga Quindi vi basterà andare a scaricare da download e si scaricherà Bluestacks sul vostro computer Io l'ho già scaricato, adesso andiamo ad aprire che vi spiego tutto Bene, una volta che l'avete scaricato da Google dovete ritornare sul desktop, ok? Una volta che l'avete installato, ecco qui Bluestacks Noi adesso dobbiamo andare ad aprirlo perché dobbiamo fare dei piccoli procedimenti Ecco Bluestacks si aprirà in questa maniera Intanto si sta caricando Avvio di Bluestacks a tendere E adesso dobbiamo andare a scaricare in una maniera particolare StumbleGuys Ovviamente tutto gratuito, raga, non costa niente E praticamente il vostro computer si trasformerà in un cellulare Allora, la schermata sarà così Per una questione di praticità adesso mettiamo lo schermo intero In questa maniera, raga, così vediamo tutto per venire E allora, io ho già scaricato StumbleGuys Però adesso vi devo spiegare come dovete fare Avete due possibilità La prima possibilità Potete andare nel Play Store qua in alto a sinistra Ecco, io non ho l'account Però voi mettete il vostro account E come dal cellulare andate a scaricare StumbleGuys Ma io che sono pigro, un attimo soltanto Io sono pigro e invece l'account non l'ho voluto attaccare E non ho voluto attaccare l'account Perché ne ho alcuni e non l'ho voluto attaccare Quindi vi do un altro consiglio Potete andare su Chrome, ok? Cliccate Chrome E dovete cercare Aptoide Che probabilmente conoscete già tutti Ma ecco, infatti l'avevo già cercato Andate a scaricarvi Aptoide Che vi scaricherà sempre su Bluestacks Così non dovete loggarvi Quindi voi scaricate Aptoide Voi andate a scaricarvi Aptoide Che comparirà sempre nella schermata Quindi andate su Aptoide Cliccate Si aprirà Aptoide Come dal cellulare, raga, in fondo Poi andate sulla ricerca Quindi cerca in basso a destra Cercate StumbleGuys Che è StumbleGuys, raga Che è un gioco che è appena uscito Che poi voglio pure portarlo, raga Quindi ci sarà la scritta scarica E voi ovviamente lo scaricate, raga Io l'ho già scaricato Adesso potremmo anche provare ad aprirlo Per vedere com'è StumbleGuys Vediamo se si apre, se funziona Signori, il momento della verità Vediamo se funziona StumbleGuys Ed ecco voi, signori StumbleGuys Siamo riusciti a scaricarlo Senza nessun problema Ci abbiamo messo forse 5 minuti, raga Ma forse sto esagerando E non ho mai giocato a questo gioco Quindi non so neanche come funziona Questo Questa skin No skin, siamo Andiamo a modificare un attimo il nome Per vedere se funziona Ecco io mi chiamerei Direttamente Gio12Pro Che è il mio nome che utilizzo in tutto Gio12Pro Vediamo se me lo dà disponibile Gratis La tua prima modifica del nome è gratuita Vai Non è disponibile Me l'hanno rubato E mi avete rubato il nome Mamma mia Vediamo a mettere quella più grande Vediamo solo se funziona Gratis Vabbè me la sbrigo io tranquilli Non è un problema Il gioco è pronto all'utilizzo Quindi in 5 minuti potete scaricarvi StumbleGuys Gratis sul compito Signori, spero che questo tutorial vi sia stato utile In 5 minuti abbiamo scaricato StumbleGuys Quindi mi raccomando Lasciate un bellissimo like Vi ricordo le iscrizioni I commentini Potete commentare se avete sempre bisogno di aiuto E poi volevo dirvi un'altra cosa Io voglio portare anche questo gioco StumbleGuys Tipo come delle serie O dei bellissimi gameplay Quindi mi raccomando Incentiviamo a iscriversi Quindi spero che questo tutorial vi sia stato utile Giovanni vi saluta E ci becchiamo Alla prossima Andiamo a giocare a StumbleGuys Gratis